A nove anni dal terremoto per la ricostruzione delle scuole ancora non c'è il cronoprogramma. Intanto, ormai, la notizia è che la Diamicis non tornerà in centro. Dalla Commissione Programmazione e Territorio dedicata all'edilizia scolastica sono emersi in realtà pochi elementi secondo i vari comitati nuovi rispetto a un quadro già noto. Tant'è che la consigliera di coalizione sociale Carla Cimoroni, autrice della mozione votata anche dalla maggioranza ma non dal centro-sinistra, si è detta soddisfatta a metà perché la mozione prevedeva due punti. La ricognizione sullo stato dell'arte, questo tutto sommato è stato fatto, e l'aggiornamento e il completamento del cronoprogramma pubblicato attualmente sul silo del comune. Su questo ci aspettavamo, ha detto la Cimoroni, almeno una proposta, invece non è stato fatto. La fotografia scattata dal primo cittadino Pierluigi Biondi in realtà vede la ricostruzione delle scuole ancora al palo. A nove anni dal sisma, l'unico plesso di proprietà comunale tra asili, scuole elementari e medie in cui sono partiti i lavori, è la primaria Maria Leventre di Pettino, che è stata, tra le altre cose, soltanto abbattuta. Per tutti gli altri istituti si è ancora nella fase della progettazione più o meno avanzata, ma in molti altri casi non si è arrivata nemmeno a quella. Non possiamo metterci a discutere su dove rifare ogni singola scuola, dice Carla Cimoroni, alcune scelte sono definitive, altrimenti ripartiremo sempre da zero. Se dobbiamo ogni volta ricominciare dalla programmazione del PRG, non arriveremo a ricostruire niente.